Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi vediamo questo aereo che ci è stato offerto gentilmente da Gearbest. Questo aereo è lo Sky King F959. Nel video precedente abbiamo visto cosa c'è nella scatola. Adesso invece montiamo questo aereo che dovrebbe essere molto semplice. Dobbiamo infilare quest'ala da questa parte. Molto semplice. Ok. Dopodiché bisogna inserire questo supporto in carbonio all'interno e mettiamo la seconda ala. Adesso però prima di andare a volare dobbiamo fare qualche operazione di controllo. Apriamo il vano batteria e colleghiamo la batteria. Dopodiché accendiamo il telecomando assicurandoci che lo stick del gas è a zero. La prima operazione che dobbiamo fare è vedere se le superfici di controllo sono dritte. La prima cosa che dobbiamo controllare è che questa superficie qua sia dritta e non sia troppo in alto o troppo in basso. Se fosse troppo in alto o troppo in basso, che non è il nostro caso in questo momento, dobbiamo andare a smontare questo braccio e avvitare o svitare questo braccio di plastica per cercare di tenerlo dritto. Ovviamente tutto questo ha radio accesa che quando lo stick è in mezzo, questa superficie deve essere in mezzo. Quando alziamo lo stick si abbassa, quando abbassiamo lo stick si alza. Lo stesso vale anche per questa superficie di controllo che come notate è spostata un po' a sinistra. Quindi per aggiustare questa cosa dovrei andare ad avvitare questo pezzo di plastica. Molto semplice, devo solamente staccarlo. Avvito e riprovo a vedere cosa succede. Come potete notare ce ne vuole ancora un po'. E quindi dobbiamo continuare ad avvitare fino a quando sarà dritto. Adesso l'ultima cosa che facciamo è segnare con un pennarello un puntino nel baricentro che troviamo scritto nel manuale di istruzioni che ha 30 o 33 mm dalla partenza dell'ala. Come potete notare ho segnato un puntino. Vedremo l'utilità di questo quando andremo a fare la prova di volo. Ovviamente dovessimo trovare che l'inclinazione che abbiamo deciso delle superfici di controllo non sia corretta quando andiamo a fare la prova di volo. Possiamo andare ad agire su questi due trim. Chi vuole andare ad approfondire cosa sono i trim può cliccare qua. Siccome sono principiante negli aerei, quando avevo notato questa inclinazione strana verso destra dell'elica pensavo fosse un difetto. Poi ho notato qua che c'è una linguetta che spinge apposta praticamente l'elica verso destra. E questo probabilmente per compensare la deviazione causata dal fatto che questo è un monorotore e gira da una parte e quindi genera distorsione nella parte opposta. Adesso prima di fare la prova di volo vorrei fare due prove molto importanti. La prima è il failsafe. Bisognerebbe sempre quando si compra un aereo nuovo provare il failsafe perché nel caso la batteria finisse o perdete il segnale per qualche motivo non vorrete che il vostro aereo voli via da solo. Quindi accelero un pochino, spengo la radio e come potete notare si è fermato il motore quindi è una cosa positiva. Riaccendo la radio, vedo cosa succede. Ci mette un bel po'. Non succede nulla. Perfetto. La seconda prova che andrebbe fatta è controllare il baricentro. Bisognerebbe tenere l'aereo dal punto che abbiamo segnato del baricentro e vedere se è bilanciato o meno. Sempre prima del volo ricordatevi di provare se funzionano i servo. Adesso abbiamo la mia fortuna che mi perseguita. C'è tantissimo vento e in 5 minuti si è formata la nebbia. Comunque adesso non riesco a resistere, a non fare la prova. Facciamo la prova lo stesso. Spingo il gas a 60 o a 75% e devo lanciare praticamente dritto l'aereo. Se trovate il vostro aereo sbilanciato quindi con il muso o la coda più pesante potete giocare con la posizione della batteria per arrivare ad un bilanciamento perfetto. Io ho trovato quest'aereo più pesante di coda con la batteria originale ma avevo un'altra uguale di un'altra marca che pesa leggermente di più. E mettendo quella l'aereo è perfetto ma se volete potete aggiungere un pezzo di polistirolo dietro alla batteria che servirebbe sia a bilanciare l'aereo che a bloccare in posizione la batteria per sicurezza. Ho quasi spento l'elica e oggi c'è tantissimo vento e direi che questo aereo è un'agliante praticamente. molto divertente ma non dà la sensazione di controllo completo visto che non abbiamo il controllo il quarto canale diciamo. Comunque è davvero divertente specialmente con questo venticello che c'è è veramente divertente a me piace tantissimo o diciamo per settarlo praticamente avevo la coda che andava troppo a sinistra l'aereo e per settarlo praticamente ho dovuto fare un leggero crash ma direi che è molto resistente. è un'agliante Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spostandolo nel buco verso l'interno un pochino bisognerebbe avvitare il braccio del servo. Una cosa molto utile e molto bella di questo aereo è la facilità di montaggio e smontaggio e quindi risparmiate spazio e si può mettere dovunque. Questa è la prima volta che piloto un aereo a tre canali e come potete notare questo è il risultato. Meno male che avevo con me il mio kailin che mi ha salvato. Vediamo quanto resistente è questo aereo. Abbastanza resistente vediamo quanto resiste ancora. Qui praticamente avevo dimenticato di installare il supporto di carbonio per le ali e non riuscivo a capire come mai si comportava così male ma dopo tutti questi atterraggi soft come potete notare l'aereo è rimasto intatto. A parte un po' di terra sul muso e quindi devo dire che è veramente resistente questo aereo. Se vi piace questo video vi ricordo di cliccare sul tasto mi piace e se avete dei commenti o dei suggerimenti visto che sono ancora principiante con gli aerei vi prego di lasciarli giù sotto nello spazio dei commenti di youtube. E se non siete ancora iscritti potete cliccare qua sul tasto iscriviti per iscrivervi. Grazie a tutti e ciao alla prossima.